Ciao, sono Riccardo Ferrero, faccio l'executive chef in un ristorante di cucina tradizionale piemontese, il Camilla's Kitchen. Il nostro menù per Fensit è composto da tre portate, gli agnolotti tradizionali piemontesi, la guancia di maiale brasata al moscato con polenta morbida e in ultimo il salame al cioccolato servito con una spuma di zabaione. Allora, gli agnolotti sono dalle tre carni, c'è dentro maiale, vitello e coniglio, più delle verdure e vengono serviti su tovagliolo come da tradizione con il brodo di gallina fumante a parte. La guancetta di maiale brasata invece la cuocio a bassa temperatura con il moscato, è servito poi con la riduzione della salsa stessa di cottura della guancia e una polenta morbida, una polenta integrale macinata a pietra. Ed infine sempre nella salsa troverete una carota biologica e una rosetta di cavolo. Il salame di cioccolato è un tipico dolce piemontese che anche la nonna o la mamma ci davano a merenda da portare all'asilo o all'elementario o a scuola. Per quanto riguarda la spuma di zabaione è una reinterpretazione di un dolce classico piemontese quale lo zabaione. Io lo servo freddo anziché caldo e ne faccio una spuma. Questi tre piatti saranno molto facili da comporre a casa anche perché vi do quasi tutto sotto vuoto solo da rigenerare. Ed in meno di 20 minuti sarete in grado di preparare queste tre portate. Grazie. Grazie.